L'aerospazio è importante, obiettivo centrato per lo spazio porto di Gruttaglie, ma è per fortuna la Regione Puglia e Aeroporti di Puglia lavorano contemporaneamente al progetto di riqualificazione dell'intera aerostazione dell'aeroporto Marcello Arlotta, il che, in parole semplici, significa predisporre l'aeroporto per un futuro che lo veda protagonista anche per i voli di linea passeggeri. Noi continuiamo a lavorare, anche come Regione Puglia, insieme ad Aeroporti di Puglia, ad un progetto importante di riqualificazione dell'intera aerostazione anche coniugata ai voli di linea passeggeri e in tale direzione, oltre agli interventi che sono stati già fatti a via di rullaggio, pista di rullaggio, ampliamento del piazzale di sosta degli aerovelifoli e il rifacimento degli hangar, il rifacimento totale per 9 milioni di euro del terminal passeggeri, che entro 700 giorni, quindi in meno di due anni, darà la possibilità di poter finalmente volare da gruttali, che per noi rimane come Regione Puglia un elemento fondamentale, che non è in contrapposizione con lo spazio porto. Questo lo voglio dire rispetto a chi, quando sente parlare di spazio porto, lo vede come un elemento negativo rispetto ai voli di linea passeggeri. Non sono due questioni che sono in antitesi, anzi possono e devono coniugarsi e devono andare insieme. Nessuna contrapposizione, lo spazio porto non è in antitesi con la vocazione civile dell'arlotta, sottolinea il consigliere del presidente Emiliano, possono e dovranno convivere serenamente come i più longevi dei matrimoni.